Allora, eccolo, è lui o non è lui? Certo che è lui! Grande! Ciao ragazzi! Ciao Max! È da circa due anni che voglio farti questa battuta. Benvenuto a mi casa! Adesso lo posso dire. Fantastico! Ti devo dire che non sei il primo però! No, niente di originale, niente di originale. Max, io devo farti la confessione che prima ti ho spoilerato, però ho scelto di non dirtela se non in diretta. È possibile che ovunque io vada nel mondo, quando incontro una persona che ti conosce, parla bene di te. Allora, due sono i casi. O ho avuto fortuna, o cazzo sei uno che ha un'intelligenza relazionale fuori dal comune. Non lo so, ma devo dirti che quella parte lì delle relazioni mi è sempre venuta bene perché sono naturalmente e organicamente interessato alle relazioni. Forse lì risiede un pochino della risposta. A volte anche qualcun altro mi dice è possibile che ovunque vada c'è qualcuno che ti conosce? E lì c'è un'altra risposta. A, purtroppo non sono un ragazzino. E ho vissuto proprio tanto. Tu sai che anche solo 25 anni di locali sono situazioni dove poi conosci un sacco di persone e io l'ho vissuta in maniera, come ho detto prima, molto così naturale. Godevo della relazione, ma lo faccio tuttora. Va detto anche una cosa, Max, che col tuo curriculum da DJ oggi sei un family guy, ma il DJ di solito è associato, non lo so, ad alcuni stereotipi. È già tanto che la gente in giro per il mondo non ti fermi per dire Max, io sono tuo figlio. Sì, quella paura ce l'ho sempre. Infatti solitamente con i ragazzini cerco di evitare. No, però è vera, sta cosa è incredibile. Guarda, io ne stavo parlando con Raffaele ed è incredibile come vedevo che qualsiasi artista da Tiziano Ferro a Sfera e Basta è come se venissero da un amico. Cioè, il Mi Casa non è uno slogan, ma è un biglietto da visita. Cioè, le persone sono proprio... Se vede che c'è questa amicizia che nutrono nei tuoi confronti e questa cosa a me mi ha stupito. Soprattutto nel mondo musica, lavoro da tantissimi anni e ho lavorato con la maggior parte poi dei ragazzi che mi vengono a trovare. Diciamo che siamo connessi da qualcosa che è più profondo della relazione tra intervistatore e intervistato. Una cosa che a me ha colpito noi siamo conosciuti nel contesto di un'intervista quando io lanciai il Buongiorno in Londra proprio a 105 Mi Casa e poi ho ritrovato come matrice in tutte le tue interviste. Tu sei, come veniva definito Ulisse, Politropos, un uomo dal multiforme ingegno. Cioè, non so che cosa tu abbia scritto sulla carta identità probabilmente musicista, non lo so, però sei uno speaker, un DJ, sei un artista, sei un manager, sei un produttore. Prenditi mezz'ora che ti racconto tutto quello che fa Max nella vita. Quindi tu hai un animo fortissimamente artistico, ma hai una capacità di cucire la tua personalità addosso al tuo ospite di casa che ti fa mettere proprio il tuo ego in un cassetto per esaltare chiunque tu abbia al tuo fianco. Tu hai una maestria nella conduzione radiofonica che ho visto in pochi altri. Perché penso, tanto nel podcasting, così come nell'arte, così come nel speakeraggio radiofonico, c'è forse il limite della sindrome da rock star. Quando penso a Mi Casa, penso che sia proprio il programma non mio. Penso che sia il programma degli ospiti. Oppure penso che sia il programma degli ascoltatori. Non lo vedo come il mio programma. Guarda, sto ragionando a voce alta. Quando devo fare i promo del programma, se fosse per me, non mi metterei io. Cioè farei vedere una carrellata di immagini di ospiti. E sinceramente anche quando ho avuto dei risultati importanti, questo è un programma che il primo anno di messa in onda ha vinto le cuffie d'oro, no? Che è un qualcosa che succede molto raramente. Però, devo essere sincero, non ho mai pensato, mentre ritiravo le cuffie d'oro, quanto sono bravo. Ho pensato più quanto sono fortunato che una serie di miei amici abbiano dato la loro disponibilità a venire a trovarmi. Io penso che ho aperto il programma, la prima puntata l'ho fatta con Lorenzo Giovanotti, che ha battezzato tutto. Ha detto, è la tua cosa. Fallo così che è una figata. Veniamo tutti. Ecco, è nata così. Che è un sigilo papale, detto da Lorenzo. Sì, sì, sì. Detto da uno, ragazzi, che io ascoltavo in radio. Cioè, io inizio a impazzire per Giovanotti, che è uno di quei pochi casi di artista che riesce a mantenere nel corso di tutti quegli anni un ingaggio con l'ascoltatore, in questo caso con me stesso. Però io lo scopro come speaker radiofonico. Io tornavo da scuola, scendevo dal pullman, correvo con la cartella per arrivare alle due a casa e beccare l'attacco di Lorenzo. Ho talmente tante cassettine di Lorenzo che fa lo speaker che io conosco le canzoni dei Public Enemy e so entrare esattamente dove Lorenzo disannunciava il disco. Lavorare con un artista, lavorare con un grande calciatore, tu sei pure anche amico dei calciatori, non è semplice, perché comunque se ci entri in competizione hai già perso. Invece, quello che io ho vissuto sulla mia pelle e ho visto in tanti artisti è la grande fiducia che hanno nei tuoi riguardi. Tu riesci in maniera cross-generazionale a far sentire a proprio agio le persone al punto da chiederti consiglio. Tu che cosa faresti, Max? Eppure tu, il tuo caratterino, penso che ce l'abbia, no? Allora, dividerei, no? C'è la parte del consiglio che mi capita spesso di dover dare. Mi trovo ragazzi che hanno vent'anni meno di me, che fanno un percorso che ho iniziato a fare, che faccio anch'io, che facevo anch'io, chiedono consiglio al fratello maggiore, allo zio, al papà. Poi quando questo consiglio viene un po' messo a sistema, cioè vuol dire lavoriamo insieme, io per esempio ho un'attività di management, allora il lavorare insieme diventa che poi a volte devo insistere un po' di più su quella che è la mia visione. Sì, fa parte del caratterino. Devo dire che prima lo avevo molto peggio. Il mio caratterino era decisamente peggiore. Sono riuscito a migliorarmi negli anni, che forse è l'unico scopo della vita. Le parti negative ne abbiamo e le avremo sempre, però lì ho cercato di ascoltare, ho imparato a ascoltare di più e a cercare di imporre meno il mio pensiero, anche perché ho imparato che spesso il mio pensiero ha portato a un errore. Quando si entra nella fase lavorativa, secondo me è anche una responsabilità. Se ti affidi a me, io devo comunque darti una mia visione. Il mondo musicale, che adesso si divide su vari posti, tra streaming, tra radio, che rimane sempre una pietra miliare, come sta evolvendo dal tuo punto di vista? Beh, allora, c'è un qualcosa che rimane sempre la stessa cosa, che è la musica. Ed è un punto sul quale dobbiamo riflettere molto, perché a volte ci confondiamo e a volte pensiamo che quando cambino i supporti o le piattaforme, cambia anche il contenuto. Invece il contenuto è lo stesso e questo è molto importante. Cambiano tanto invece le condizioni esterne. La musica è liquida, non è più fisica, questo non è un cambiamento, è una rivoluzione epocale che ha completamente sovvertito il sistema. Tra l'altro anche tenendolo in vita, perché lo streaming porta le economie che avevamo perso con il fisico. Però di fatto ha favorito alcuni artisti, alcuni generi, a scapito di altri artisti e di altri generi. Io credo che iniziano adesso gli anni di una metabolizzazione dell'accaduto. Dobbiamo dare un reale peso ai numeri. È un podcast che ho voglia di fare, che mi gira in testa da un po' di tempo, poi non ho mai il tempo di fissarlo giù. Secondo me ci vuole più educazione nella lettura dei numeri, altrimenti ci confondiamo e confondiamo il mercato. Lo streaming premia dei ragazzi e dei generi, non che non se lo meritino, anzi se lo stramericano, però per esempio quei numeri non vengono convertiti nel live, che spesso sono numeri da centometristi, non sono numeri da maratoneti. Spesso finiamo per apprezzare, amare, andare a vedere live, i maratoneti e non i centometristi. Quindi noi dobbiamo sicuramente essere più bravi nella data analisi e non gridare al miracolo ogni venerdì. Questo secondo me è un qualcosa che noi a detti i lavori dobbiamo imparare a fare meglio. C'è grande movimento, i cambi di piattaforma, come hanno sempre fatto nella musica, portano delle rivoluzioni, no? Michael Jackson senza l'avvento del videoclip non diventa Michael Jackson. Stiamo parlando del più grande di sempre. Così come probabilmente Sfere Basta non diventa Sfere Basta senza lo streaming e senza Instagram. Dobbiamo essere bravi a dare dei pesi a questi numeri. Ma sai Max, una cosa, ciò che accomuna te, il sottoscritto, Sandro, Seba, con expertise diversi è che tutti e quattro siamo dei podcaster. E io volevo farti parlare un po' del podcast, perché sei uno dei pochi con chilometrata esperienza nei mass media che non ha visto nel podcast una minaccia o prima ancora qualcosa di totalmente incomprensibile. Ma mi hai sempre trasmesso un profondo senso di fiducia, di possibilità, di inevitabilità nella capacità di leggere questo medium per cavalcarne le opportunità. Qual è il futuro del podcasting? Qual è il futuro della radio, secondo te? Faccio solo un passo indietro su come vedo io spesso le cose. Mi leggo molto a una matrice e poi non vedo così tante differenzazioni nella matrice. Cioè, a me sembra sempre di fare il DJ, mi sembra sempre di fare musica. Poi nei miei anni ho fatto il DJ nei club, il produttore, il musicista, ma mi sembra sempre di fare la stessa cosa. Cioè, stiamo cercando di mettere una canzone e farla diventare una canzone di successo, di svilupparla, eccetera. La radio la vedo un po' allo stesso modo. Io la radio la faccio da quando non facevo la radio. Cioè, da quando, da bambino, parlavo in camera da solo sulle canzoni. E non ho mai cambiato. Cioè, per me la radio è quella cosa lì, è quell'urgenza di comunicare che avete voi, che hanno tutti i nostri amici che fanno questo mestiere. Poi sono stato fortunato che ho fatto la radio. Quando sono arrivati i primi podcast, io li ho visti come un'estensione della radio, come un approfondimento. Cioè, dentro di me mi dicevo, in radio ho dei blocchi da cinque minuti dove devo disannunciare il disco, dove devo annunciare l'altro, dove devo far questo, dove devo far quell'altro. Quanto sarebbe bello poter parlare un quarto d'ora invece del perché i dischi escono di venerdì. Cioè, il podcast è una grande opportunità, io lo vedo complementare. Sono sempre stato così. Mi affeziona la matrice e poi come questa cosa venga diffusa mi interessa meno. La radio è qualcosa di incredibile. Cioè, è la voce col microfono. La cosa più semplice del mondo è la più difficile perché quel microfono lì becca tutto. Non è che becca solo quello che stai dicendo. Becca la tua emozione, la tua credibilità, la tua penetrazione. Cioè, è una magia quella. Cioè, io per esempio quando faccio la radio vado un po' con il pilota automatico perché per me siccome la faccio da 25 anni tutti i giorni è come mangiare, come guidare. È una cosa che è la mia vita. Io sono quella cosa lì, sono il mio programma. Il podcast mi mette più in difficoltà perché intanto non sono in diretta. Sono da solo senza l'interazione di un regista. Mi affascina perché in realtà mi mette più in difficoltà. pensiamo che in origine non c'era la radio, in origine c'era il teatro e quando è stata inventata la radio i primi speaker sono stati gli attori di teatro che snobbarono la grande innovazione di Marconi e in seguito la televisione all'inizio era fatta dai radiofonici che snobbarono l'innovazione della televisione. Lo stesso per internet, lo stesso per il podcast, lo stesso per il live streaming che stiamo facendo noi adesso. Ma alla fine è sempre una storia che attraverso un mezzo tu hai l'opportunità di condividere nel mondo. Secondo me è legarsi all'assoluto o ti leghi al media? Io sono uno che ho capito negli anni che mi leggo all'assoluto. Infatti questa cosa che tu hai detto della matrice a me apro è veramente un mondo quindi ti ringrazio Max perché qual è la matrice l'urgenza di comunicare l'urgenza di trasmettere qualcosa quindi quando tu dici cogliere nella voce l'emozione questa passa addirittura mentre lo racconti è vero un commento di fan web che dice hai ragione Tova adesso vorrei abbracciarlo te la spiego sta cosa esatto ieri quando ho annunciato la tua presenza ho detto è un essere umano talmente nobile che dopo mezz'ora che lo sentite parlare vi viene voglia ad approcciarlo a me è accaduto così noi ci siamo abbracciati infatti dopo mezz'ora ci siamo abbracciati tra l'altro la cosa singolare questo retroscena è fantastico è che mi dicono che sarei stato ospite di 105 Mikasa e io e Max non ci eravamo mai incontrati prima nell'andare a prendere la tube per andare all'aeroporto per raggiungere Milano per fare l'intervista con lui passo da Portobello Road io vivevo proprio proprio lì dietro davanti al Bansy Store e gli prendo una t-shirt di Bansy arrivo in radio e dico a Max guarda ti ho portato un pensierino da Londra e scopro che lui è un grandissimo fan di Bansy però pensa la sincronicità e tutto questo senti io volevo chiederti anche una cosa visto che stasera mi concedi questo grandissimo onore di essere ospite a Mikasa dove nasce il tuo interesse per la filosofia io per questa professione qua del filosofo sono stato preso per il culo se non ti tiravano dietro i pomodori era già tanto ok e tu sei stato uno dei pochi che quando ho detto la professione del filosofo mi ha fatto wow che figata sta cosa e devo dirti che negli ultimi anni sono stato ad un passo dal mollarlo questa brand identity e questo posizionamento e tu sei stato l'unico che mi ha sempre detto no insisti guarda che sta roba qua tornerà di moda ci sarà sempre più bisogno del pensiero questa passione per il pensiero dove nasce? è tutto è tutto perché noi siamo un pensiero i progetti che vogliamo fare nascono da pensieri le persone pensanti sono una grande opportunità quando prima dicevo ho sempre avuto un'inclinazione naturale per le relazioni ma probabilmente anche per colmare una mia mancanza cioè nel momento in cui riconosci che l'altro ti porta qualcosa che non hai è una grande opportunità anzi io sono anche stato un grande ladro di energie e di concetti che altre persone hanno inserito dentro di me poi su di te mi piaceva molto mi continua a piacere molto il contrasto che è sempre vincente in comunicazione quello che fa un po' crash funziona sempre quindi come è figo vedere un rapper tatuato che suona il pianoforte classico allora è figo anche vedere un filosofo tatuato io quando ti dico non mollare perché secondo me tu fai bene alla categoria perché comunque è una categoria che vive di un grande misunderstanding il filosofo deve essere un vecchio babbione che parla da solo in una stanza che cos'è un filosofo un filosofo è uno che parte dalla caverna delle illusioni esce a contemplare il bene assoluto la realtà immanente la realtà metafisica e poi torna nella caverna a raccontare storie non è la stessa cosa che fa un musicista che plasma questa materia che è il linguaggio nella sua forma primordiale che è il suono per riuscire a trasmettere agli altri quegli assoluti che sono le emozioni il modo in cui hai esordito prima in cui mi dici io cerco gli assoluti oltre il relativo è un ragionamento filosofico in piena regola chi ha creatività e chi ha voglia di fare uno step in più rispetto al punto in cui è stato messo sulla terra perché poi lì c'è una chiave ti hanno messo lì poi fra un po' te ne devi andare vuoi andartene che sei ancora lì o vuoi esserti spostato di un centimetro un metro un chilometro ecco quello è il potere dell'urgenza comunicativa che poi unisce tutto a doppio filo tutto il discorso di cui facciamo quello che dice Auremax che al di là dello strumento il daimon interno è quello della comunicazione che porta in filosofia o in pensiero quello di cui parliamo questa cosa per me ha affascinato tantissimo ti chiedo un'ultima riflessione su questo punto che per me è molto caldo ogni giorno che vado in diretta su Twitch da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 lo ricordo ed è la responsabilità sociale le tue parole i tuoi linguaggi hanno il potere di ispirare e condizionare tanto in positivo quanto in negativo te lo chiedo perché secondo me questa responsabilità tanti calciatori tanti speaker tanti ahimè streamers che abitano su questa piattaforma ancora non l'hanno compreso che la pedagogia passa dall'emulazione allora io vengo da una scuola dove la responsabilità rispetto a ciò che dici ti viene insegnata subito nei media tradizionali se sbagli a dire delle cose vai a casa soprattutto prima nella massima libertà di espressione però devi stare attento comunque questo è un insegnamento quello strumento enorme che è il microfono devi rispettarlo e sono molto contento di aver ricevuto questo insegnamento poi nel mentre sono diventato grande sono arrivati social non ho mai pensato di dover fare l'influencer quindi non ho mai avuto il problema dei numeri non me ne frega niente faccio le mie comunicazioni sono mirate a quello che mi piace fare nella vita cioè tentare di ispirare le persone perché a me le persone che mi hanno salvato la vita sono quelle che mi hanno ispirato qualcosa Vasco Rossi non lo sa perché non è che si è alzato la mattina perché voleva essere fonte di ispirazione per me però lo è stata e mi ha insegnato a codificare i sentimenti e mi ha tenuto su una via questo è quello che mi piace fare nella vita poi mi rendo conto che ci sia invece una nuova generazione di ragazzi sono vittime dei numeri ma non è colpa loro è la società che è vittima dei numeri è quello che dicevo prima la musica dobbiamo essere noi più bravi è chiaro che quello che cerco sempre di dire anche ai ragazzi è che nel momento in cui comunichi a più persone devi metterci un po' la testa perché perché poi soprattutto quando hai un audience di teenager hai un audience di spugne un po' te la devi fare quella domanda ho una domanda molto clickbait per concludere ultimo è il nuovo Vasco Rossi italiano? io credo che Vasco debba rimanere unico perché lo dico probabilmente da fan non ce n'è un altro allora potremmo parlare cento anni adesso di Vasco ma io credo che Vasco sia più di Battisti perché a livello compositivo fa la stessa cosa a livello di penetrazione non c'è partita di quanto Vasco diventi un radunatore di folle rispetto ad altri suoi colleghi e questo ha un peso questi sono i numeri veri che cosa ci ricordiamo poi noi alla fine ci ricordiamo che è esistito un cantante che ha inventato dei raduni neanche dei concerti che ha cambiato il senso dei concerti non vai a vedere il concerto di Vasco perché ha fatto un pezzo nuovo vai perché fa parte della cultura del nostro paese ora Nicolò è facile dire che sia il nuovo Vasco perché ha dei numeri che nessuno ha mai avuto alla sua età nemmeno Vasco a me piace più pensare a Nicolò come un caso da studiare giornalmente e io riesco a farlo questo esercizio perché io non ho nessun merito nel successo di Nicolò io arrivo dopo quando tutto è già stato fatto io arrivo per una gestione del successo lui tutto quello che ha fatto l'ha fatto da solo o l'ha fatto con il management che lo ha gestito prima quello che ha fatto lui è unico nel panorama musicale del nostro paese non c'è mai stato nessuno è passato in un anno e mezzo dal Quirinetta allo stadio olimpico nessuno ha avuto tre album tutti e tre nella top ten della classifica dei dischi nessuno ha mai fatto questo 0-100 in così poco tempo quello che penso si ricollega magicamente e così chiudiamo in bellezza a quello che ho detto in apertura attenzione all'analisi dei numeri Nicolò non parte come il cantante più figo di Instagram o il cantante che fa record di streaming nelle 24 ore è uno che stando fuori da tutti i giochi fotte il sistema come dicevano i rapper negli anni 80 ma lo fa senza neanche il pensiero di fotterlo lo fa e basta però quello che non stavamo guardando perché eravamo tutti concentrati sulle prime dieci posizioni di tutte le classifiche lui lì non c'era però poi ha fatto quello che nessuno ha fatto neanche tutti i dieci sommati che erano lì dentro hanno fatto Max io ti ringrazio di cuore per la tua generosità grazie a voi ragazzi grazie a voi grazie a voi grazie a essere tu ospite stasera non ho capito ancora benissimo di cosa parleremo ma so che sarà speciale come sempre certo ma la radio è così non lo devi sapere fino a un minuto prima è giù bello ti abbraccio grazie davvero Max ciao ragazzi ti ho promesso che andiamo un weekend a qualche parte prima che io ritorni in UK stavo già guardando il calendario ti abbraccio buona giornata ciao buona giornata ciao Max buona giornata grazie grazie a tutti